Ecclesiaste, capitolo 1 Le parole del predicatore, figlio di Davide, re di Gerusalemme, Vanità delle vanità, dice il predicatore, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che vantaggio ha l'uomo da tutta la sua fatica in cui si affatica sotto il sole? Una generazione va e un'altra generazione viene, ma la terra rimane per sempre. Anche il sole sorge e poi tramonta e si affretta verso il luogo da dove sorge di nuovo. Il vento soffia verso il sud, poi gira verso il nord, gira e rigira continuamente e ritorna a fare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, ma il mare non si riempie mai, al luogo da cui i fiumi provengono, là essi ritornano nuovamente. Tutte le cose richiedono fatica, più di quel che l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di guardare, nell'orecchio è sazio mai di udire. Quello che è stato e quel che sarà, quello che è stato fatto e quel che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è il nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci ha preceduto. Non rimane alcun ricordo delle cose passate e così non rimane alcun ricordo delle cose che accadranno tra coloro che verranno in seguito. Io, il predicatore, sono stato re di Israele in Gerusalemme e ho applicato il mio cuore a cercare a investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità e un cercare di afferrare il vento. Ciò che è sorto non si può raddrizzare e ciò che manca non si può contare. Io ho parlato con il mio cuore dicendo ecco, io ho ottenuto grandezza e acquistato maggiore sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme e il mio cuore ha visto molta sapienza e conoscenza e ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza come pure a conoscere la follia e la soltezza e ho compreso che anche questo è cercare di afferrare il vento poiché dove c'è molta sapienza c'è molto affanno e che aumenta la conoscenza aumenta il dolore. Ecclesiaste capitolo 1 Ecclesiaste capitolo 2 Io ho detto in cuor mio, vieni ora, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. Ma ecco, anche questo è vanità. Del riso ho detto, è follia, è della gioia, a che serve? Ho cercato nel mio cuore come soddisfare il mio corpo col vino, spronando nello stesso tempo il mio cuore alla sapienza e a stare attaccato alla follia finché vedessi quale il bene dei figli e degli uomini dovrebbero fare sotto il cielo tutti i giorni della loro vita. Così feci grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini e parchi, piantandovi alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruii vasche per l'acqua con le quali potei irrigare il bosco per far crescere gli alberi. Comprai servi e serve, ed ebbi servi nati in casa. Ebbi anche grandi averi inarmenti e greggi, più di tutti quelli che erano stati prima di me in Gerusalemme. Ammassai per me anche argento, oro e le ricchezze dei re delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, le delizie dei figli degli uomini e strumenti musicali di ogni genere. Così divenni grande e prosperai più di tutti quelli che erano stati prima di me in Gerusalemme. Anche la mia sapienza rimase con me. Tutto ciò che i miei occhi desideravano non l'ho negato loro. Non l'ho rifiutato al mio cuore alcuna gioia, perché il mio cuore si rallegrava di ogni mio lavoro. E questa è stata la ricompensa di ogni mio lavoro. Poi mi volsi a considerare tutte le opere che le mie mani avevano fatto, e la fatica che avevo impiegato a compierle. Ed ecco, tutto era vanità, e un cercare di afferrare il vento. Non c'era alcun vantaggio sotto il sole. Allora mi voltai a considerare la sapienza, la follia e la stoltezza. Che cosa farà l'uomo che succederà lì se non ciò che è stato già fatto? Poi mi resi conto che la sapienza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho pure compreso che in entrambi è riservata la stessa sorte. Così ho detto in cuor mio, la stessa sorte che tocca lo stolto toccherà anche a me. A che pro dunque essere stato più saggio? Perciò dissi in cuor mio, anche questo è vanità. Non rimase infatti alcun ricordo duraturo, né del saggio né dello stolto, poiché nei giorni a venire sarà tutto dimenticato. E come muore lo stolto, allo stesso modo muore il saggio. Perciò ho preso in odio la vita, perché tutto ciò che si fa sotto il sole mi è divenuto disgustoso, poiché tutto è vanità e un cercare di afferrare il vento. Così ho odiato ogni mia fatica che ho sostenuto sotto il sole, perché devo lasciare tutto a colui che verrà dopo di me. E chissà se sarà saggio o solto, ma comunque egli sarà padrone di tutto il lavoro che ho sostenuto con fatica e in cui ho usato sapienza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che ho sostenuto sotto il sole, poiché qui c'è un uomo che ha lavorato con sapienza, con intelligenza e con successo, ma deve lasciare la sua eredità a un altro che non vi ha speso alcuna fatica. Anche questo è vanità e un male grande. Che cosa rimane infatti all'uomo per tutta la fatica e per l'affano del suo cuore con cui si è affaticato sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori, è il suo lavoro penoso. Il suo cuore non riposa neppure di notte, anche questo è vanità. Per l'uomo non c'è nulla di meglio che mangiare e bere e far godere ogni bene alla sua anima nella sua fatica, ma mi sono accorto che anche questo viene dalla mano di Dio. Chi può infatti mangiare o godere più di me? Poiché Dio dà all'uomo che egli è gradito sapienza, conoscenza e gioia, ma al peccatore del compito di raccogliere e di accumulare, per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità e un cercare di afferrare il vento. Ecclesiaste, capitolo 2 Ecclesiaste, capitolo 3 Per ogni cosa c'è la sua stagione e c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire, un tempo per costruire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio, un tempo per danzare, un tempo per gettare via pietre, un tempo per raccogliere pietre, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cuscire, un tempo per tacere, un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare un tempo per la guerra e un tempo per la pace che vantaggio a chi lavora da tutto ciò in cui si affatica ho visto l'occupazione che Dio dà ai figli degli uomini perché vi si affatichino egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo ha persino messo l'eternità nel loro cuore senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine così ho compreso che non c'è nulla di meglio per loro che l'allegrarsi e fare del bene durante la loro vita e che ogni uomo che mangia e beve e gode benessere in tutta la sua fatica questo è un dono di Dio ho compreso che tutto ciò che Dio fa è per sempre non vi si può aggiungere nulla e nulla vi si può togliere e Dio fa così perché gli uomini lo temano ciò che è è già stato prima e ciò che sarà è già stato e Dio investica ciò che è passato ho pure visto sotto il sole che al posto del giudizio c'era l'impità e al posto della giustizia c'era l'impità così ho detto in cuor mio Dio giudicherà il giusto e l'impio perché c'è un tempo stabilito per ogni cosa e per ogni opera ho detto in cuor mio riguardo alla condizione dei figli degli uomini Dio li mette alla prova perché essi stessi si rendano conto che sono come bestie infatti tutto ciò che succede a figli degli uomini succede alle bestie ed entrambi succede la stessa cosa come muore l'uno così muore l'altra sì hanno tutti uno stesso soffio e l'uomo non ha alcuna superiorità sulla bestia perché tutto è vanità tutti vanno nello stesso luogo tutti vengono dalla polvere tutti ritornano alla polvere chissà se lo spirito dei figli degli uomini sale in alto e se lo spirito della bestia scende in basso nella terra così mi sono reso conto che non c'è nulla di meglio per l'uomo che rallegrarsi nei suoi lavori perché questa è la sua parte chi lo porterà infatti a vedere ciò che accadrà dopo di lui ecclesiaste capitolo 3